Il mio augurio più sincero a tutta la comunità tarantina, a Cosmopolis, soprattutto affinché sia un anno di pace. Abbiamo tanto bisogno di pace, di riacquisire la serenità, l'armonia, a iniziare magari dai nostri affetti familiari e poi allargando a tutta la comunità anche a me internazionale e ovviamente con pensiero non può che andare anche ai nostri fratelli ucraini.